I tecnici dello Spisal sono rimasti ore in questo stabilimento di lavorazioni metalli in zona industriale a Crocetta del Montello, dove in mattinata è scattata la mobilitazione per un operaio caduto dalla copertura, precipitato da un'altezza di circa 10 metri. L'uomo, 49enne, residente a Tombolo, nel Padovano, stava lavorando sul tetto per conto di una ditta di tiene, lavori di manutenzione sulla sicurezza dei quali ora si stanno concentrando le indagini portate avanti accanto ai carabinieri della stazione locale. L'allarme di prima mattina è stato lanciato da alcuni colleghi, da qui l'intervento dell'idio di soccorso da Treviso, che una volta stabilizzato l'uomo, lo ha portato al cafoncello. Da qua vedo, vedo, c'era già ambulanza, c'era tutto, era già dietro, già portato sull'elicottero prima di partire, un quarto d'ora dopo, però sono arrivato alle 9, meno 10 io. Probabile che la caduta dell'operaio sia stata causata dal cedimento di un lucernario. Il volo gli avrebbe procurato gravissime fratture su tutto il corpo. Sul posto sono poi arrivati i titolari dell'azienda, alcuni familiari dello stesso 49enne e la sindaca di Crocetta. Credo che ovviamente da parte nostra possa andare sicuramente un in bocca al lupo, un buona fortuna, un augurio fortissimo alla persona che adesso si trova ricoverata il cafoncello e se posso anche così un augurio che possa essere solo un caso fortuito anche per le attività che so che tanto fanno per la sicurezza. Ora si deve verificare se l'uomo indossasse i dispositivi di protezione individuale e se l'area dell'intervento presentasse dei problemi di staticità. Di un incidente gravissimo parla la Willa del Veneto che ricorda come nel 2023 si siano contati quasi 69 mila infortuni sul lavoro. Vuol dire 190 al giorno, quasi 8 l'ora. Rimarca il segretario Roberto Toigo che chiede a regione e categorie di cambiare marcia. È tempo di fare ancora di più l'appello mentre l'uomo resta ricoverato in prognosi riservata a Treviso.